Grazie a tutti. Chi di voi scrive i testi? Damiano. Possiamo dire che sei il poeta del gruppo? Sì, anche in altri modi. Hai mai mandato a fanculo un fan insistente? Non perché insisteva troppo. E per cosa? Una volta abbiamo suonato, c'erano le transenne, Victoria si è piegata e un ragazzo ha avuto la geniale idea di toccarle il culo. E cosa hai fatto? Ho detto un po' di cose non belle. Ma hai stato con una molto più grande di te? Sì. Quanto più grande? Da 18 a 34, so, 16 anni. E con Victoria sei stato? Se vi piace credere di sì, ve lo lascio credere. Quante volte vi hanno dato per fidanzata? Tante. E non è vero? Se lo volete credere ve lo lascio credere. Ok, ora glielo chiediamo. Benissimo. Quindi confermi niente flirt con Damiano? Chissà. E con un altro della band? No, no. Ma li trovi almeno decenti o ti fanno proprio schifo? Sono dei bonazzi tutti quanti. Mai avuto un flirt con un collega famoso? Sì. Mai Manuel Agnelli? Ma, remolo. Ricevi avanza anche dalle donne? Sì. E hai mai avuto un'avventura con una ragazza? Sì. E com'è andata? Bene. Ora che non ci sono quei due, diteci la verità. Non vi stanno un po' sulle palle? No, in realtà mi stanno simpaticissimi. No, no, no. Avete mai pensato che prima o poi vi lascerete? No, mai voluto pensare. Ma senza di voi? Gli altri due hanno speranza di farcela? No, assolutamente no. Chitarra e batteria dicono che senza di loro finite sotto un ponte. Onesto. Senti ancora i due vecchi amici di quando non eri famoso? Ho sempre avuto gli stessi nove amici. A casa tua si faceva fatica ad arrivare a fine mese? No, siamo una famiglia media. Da quanti anni conosci gli altri tre? Sei, sei. Vi siete mai picchiati? Assolutamente no. Insultati? Mi f***o. Hai pensato di scaricare gli altri e di andare per conto tuo? Assolutamente no. Quante sigarette fumi al giorno? Tra le 5 e le 10. A che ora ti svegli al mattino? Tra le 9 e le 10. Sport, ne fai? Ho giocato tanti anni a pallacanestro. Hamburger di seitan o McDonald's? Pure hamburger di seitan. Succo di frutta o whisky? Succo di frutta. Cialis o viagra? Sono le due, cilecca, succede a tutti. E cosa fai quando succede? Aspetta un quarto d'ora. Quante ore alla settimana passi a fare l'amore? Dipende dalla settimana. Devi fare l'amore con te stesso? Non tante. Sei fidanzato? Non ve lo dico. Allora dici se convivi? Vivo da solo. Ricevi molta manza anche dai ragazzi? È capitato. Tira fastidio se qualcuno pensa che sei gay? Assolutamente no. Ma di fra voi è il più intonato? Damiano. È io. Il più ritardatario? Thomas. Forse io. Il più ubriacone? Nessuno. Thomas. Forse io. Il pigo? Nessuno di quattro. Thomas. Victoria. Damiano. Più incazzoso? Non sa io. Io sono la più incazzosa. A volte io. Damiano. Più vanitoso? Victoria all'inizio? Damiano. Non sa io. Tutti e quattro. Chi se la tira di più? Non sa io. Damiano. Nessuno. Anche perché se non si è umidi dove si fuma? Chi fuma più erba? Non lo so. Non sa io. Damiano. Chi passa più tempo sul porno? Non abbiamo bisogno di questi siti. Eba. Non so perché. Ho la sensazione che gli altri abbiano detto me. E chi cucca di più? Dipende dai momenti. Nessuno. Dormite mai nello stesso letto? Tutti e quattro un po' troppo. Due a due. Ma è successo? Io e Thomas dormiamo insieme quando dobbiamo dividere gli ufri in due parti. Divete nella stessa casa? Fortunatamente no. Avete una macchina in quattro? No. Avete mai avuto una fidanzata in comune? Che io sappia. No. Oddio no. Che domanda sterna. E un fidanzato? Che io sappia. Avorevole alla legalizzazione delle droge leggere? Sì. Se lo farà il vaccino di Covid? Anzi. Certo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti